musica bella raga siamo su... come si chiama qua? GTA San Andreas e oggi... cioè oggi no, mi è venuta un'idea da proporvi divertente e quindi ho deciso di fare un nuovo video è una cosa che avevo provato a fare quando avevo la PS2 ma insomma come vedete ho già attivato il trucco dei... come si chiama? ce la posso fare? delle auto volanti e adesso carichiamo una cosiddetta zozza per intenderci senza offesa, è solo così per definire e nulla, adesso vi faccio vedere cosa ho intenzione di fare spero che il video vi faccia ridere insomma, tanto GTA è fatto per fare queste cose non mettiamoci lì a discutere sulla moralità di questa cosa però vi sto ingannando tutti perché chissà cosa state pensando voi ma io non sto per fare quello che pensate voi adesso se riesco a schiantarmi su questo palazzo sono contento no, non ce l'ho fatta, vabbè devo riuscire ad arrivare in cima a un maledettissimo palazzo qualunque, a me non cambia il tipo di palazzo solo che non è per niente facile guidare... ahhh, troppo lungo fa niente, fa niente ah, va bene, va bene vedete? ecco, perfetto, vedete? lei scappa perché dice, ah, come guidi? il problema è che ragazzi scappa sì, ok, ma dove scappa? è scappata, va bene andiamo a vedere dove è scappata? è scappata, è scappata, è scappata ragazzi il problema è che lei non lo sapeva ma qui sotto c'era poco da scappare sì, se poi CJ si incastra adesso se riesco a rifarvelo meglio ok, praticamente voi la portate su lei non capisce che aspettate P no ok lei non capisce che oh, quella macchina era bella da portare su no, va troppo veloce che siete arrivati in cima al palazzo lei pensa solo che avete guidato male avete fatto un salto, è convinta, scende scende dalla macchina il problema è che giù dalla macchina non c'è la strada non è che dice torna a casa no quindi è bella questa stone rossa così ci sta questo è un palo che non viene giù mi sa adesso andiamo no, non ti schiantare KB ma che bonus 37 soldi solo che me ne faccio è di 37 soldi aspettate ok oh, oh, oh vediamo se già qui dovrebbe esserci eccola qua vieni qui oh honey 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 grande yes sono tutte un po' cicciotte qua eh vabbè a noi non interessa molto no, non l'ho caricata vabbè riproviamo se se non fa la l'antipatica risale sì no, vedi fa l'antipatica che schifo ma dove va? poi si schianta contro i pali allora adesso facciamo il giro andiamo piano perché se no la macchina si solleva appena accelerate quindi andiamo piano in pianotto ecco no, 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 no non i ballas idioti h i oh sti ballas del cavolo levatevi sempre si può far niente che voi state subito addosso a rompere le scatole i grove street grove va bene di qua di qua dovrebbe esserci una ce n'è sempre un paio in giro nella zona dai che è sta cosa? oh, mi hanno sparato le gomme oh, mi hanno sparato le gomme tira su ste gomme vedete qualche zozza? no? allora andiamo a cercarla, eh andiamo a cercarla dove è il problema? oh, di qua tanto ce n'è ovunque almeno in teoria ce ne dovrebbe essere ovunque poi ovviamente quando servono non le trovi poi vai in giro ce ne è dieci vicine, no? poi però se ti servono e tu che cavolo fai con quel furgoncino lì della bulk della bulk sfaken no, no non ti sollevare che poi è un disastro tornare giù ok poi li sono i ballas piano qualcuno mi aveva detto di conquistare i territori però è una cosa un po' lunga conquistare i territori se è finito di spingermi qualcuno mi sta spingendo da dietro, no? ah, vedi sì che mi stava spingendo da dietro infatti mi sembrava strano così veloce eccola no, forse lei non è così ehi sì, sì oh, eccola qui grande lei è anche carina dai ci sta vola rischio vola, 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 vola vola, vola vola la pemaia la la lila la 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 oh, questo è un bel palazzo cioè non è altissimo però no, no adesso scende via, via, via ok ho messo a posto la macchina ha una velocità ragazzi che non potete capire ora dobbiamo andare un po' più su ah, anche questo palazzo può andar bene frena, frena, frena anche se non è che i freni tipicamente vanno molto vai, vai fermati eccola qua perfetto vedete lei c'ha paura dice no, 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 no scappo scappo, scappo sì, sì tranquilla scappo io guarda eh vai come se ne va via tranquilla bella lei con gli stivaletti tranquilla adesso la seguiamo hop hop ciao bella ci si vede sdraiata sul tetto vabbè basta spero che il video vi sia piaciuto ragazzi due minuti così non so quanto è durato però vabbè insomma video veloce giusto per farvi fare due risate che bello è questo ragazzi è stupendo guardatelo oh il sosia no si è bloccato il gioco vabbè c'era il sosia ma fa niente lasciamo perdere bella raga grazie a tutti